Quando scopri che qualcuno è empatico, potresti pensare che sia una cosa positiva. Gli empatici sono persone che comprendono bene ciò che gli altri stanno provando o pensando e dimostrano una grande empatia. Avere un amico che sembra capire molto bene come ti senti e cosa pensi. Inizialmente, sembra una cosa positiva perché ti fa sentire compreso. Ma cosa succederebbe se questa persona avesse anche un lato oscuro? Cioè, potrebbe usare la sua capacità di capire gli altri per ottenere ciò che vuole, anche se questo significa farti sentire male. Ci sono persone che, nonostante abbiano questa capacità di capire gli altri, possono utilizzarla in modo sbagliato. Ad esempio, potrebbero sapere esattamente cosa dirti o fare per farti cambiare idea su qualcosa o per farti sentire in colpa, anche se non è giusto. Uno studio ha mostrato che alcune persone, chiamate empatici oscuri, possono sembrare gentili e comprensive all'esterno, ma usano le tue emozioni per ottenere ciò che vogliono. Queste persone possono avere tratti come il macchiavellismo, il narcisismo e la psicopatia, che significano che potrebbero essere più interessate a se stesse che agli altri. Quindi, è importante prestare attenzione a certi segnali per capire se qualcuno potrebbe essere un empatico oscuro. Ad esempio, se sembra sempre ottenere ciò che vuole senza preoccuparsi di come ti senti davvero, potrebbe essere il caso di fare attenzione. Le vere amicizie sono basate sulla sincerità e sulla preoccupazione reciproca, non sull'uso delle emozioni degli altri per raggiungere i propri scopi. Per riconoscere se stai venendo manipolato da qualcuno con empatia cognitiva e tratti oscuri, è essenziale prestare attenzione a questi cinque segnali distintivi. 1. La falsa gentilezza Il primo segnale è che la gentilezza dell'empatico oscuro spesso sembra falsa. Possono abbracciarti dopo una serata romantica o dire parole rassicuranti, ma qualcosa sembra fuori posto, forse un tono forzato o azioni che suonano finte. 2. Avere un amico che sembra sempre gentile, che ti dà un abbraccio quando sei triste o ti dice cose belle. Tuttavia, c'è qualcosa che non va, come se quella gentilezza non fosse sincera, come quando qualcuno indossa una maschera a una festa. È come se il tuo amico stesse recitando una parte anziché mostrare davvero i suoi sentimenti. Ad esempio, potrebbe dirti, «Sono contento di averti come amico, ma potresti sentire che le sue parole non sono sincere», come quando qualcuno dice «Mi piace molto il tuo regalo», anche se non è vero. Questo tipo di gentilezza può far sentire le persone confuse o insicure perché non corrisponde a ciò che realmente pensa o sente. Quindi, quando incontri qualcuno che sembra gentile ma c'è qualcosa di strano, è importante prestare attenzione ai dettagli e alle azioni per capire se quella gentilezza è davvero autentica o se è solo una finzione. 2. La manipolazione Gli empatici oscuri usano spesso la loro empatia cognitiva per manipolare gli altri, sfruttando le emozioni altrui a proprio vantaggio. Se alla fine di ogni discussione solo i loro bisogni sono soddisfatti, potrebbero essere in fase di manipolazione. Questo è un po' come quando giochi a un gioco e qualcuno fa sempre le regole in modo che vinca sempre lui. Anche se sembra capire i tuoi desideri, in realtà sta usando questo potere per ottenere ciò che vuole, senza preoccuparsi di come ti senti tu. Immagina di avere un amico che sa che adori i dolci. Potrebbe dirti, se mi dai il tuo giocattolo, ti darò una caramella. Ora, sembra un buon affare, giusto? Ma se, alla fine, lui ottiene il tuo giocattolo e tu non ricevi la caramella promessa, allora forse sta cercando di manipolarti. Sta usando la tua voglia di dolci per ottenere ciò che vuole, senza pensare davvero a te. Quando incontri qualcuno che sembra sempre ottenere ciò che vuole e non si preoccupa mai di come ti senti, potrebbe essere un segno di manipolazione. È importante essere consapevoli e assicurarsi che le relazioni siano sempre basate sulla reciprocità e sulla preoccupazione per i bisogni e i sentimenti di entrambe le persone. 3. Il senso di colpa Il terzo segnale è il senso di colpa. Gli empatici oscuri mostrano spesso un'aggressività indiretta più alta rispetto alla media, particolarmente evidente nei tentativi di far sentire gli altri in colpa per ottenere ciò che vogliono. Avere un amico che ogni volta che non fa quello che vuole, inizia a fare certe facce tristi o dire cose che ti fanno sentire male. Anche se non dice apertamente che ti fa sentire in colpa, puoi capire che sta cercando di farti pensare che tu abbia fatto qualcosa di sbagliato, anche quando magari non è così. È un po' come se giocassi a un gioco e, quando non fai ciò che il tuo amico vuole, lui inizia a fare una faccia triste e a dire cose come «mi hai deluso». Anche se tu non volevi deluderlo, ora ti senti in colpa come se avessi fatto qualcosa di brutto. In questo modo, gli empatici oscuri cercano di far sentire le persone in colpa senza dirlo direttamente. Vogliono che tu faccia quello che vogliono, anche se magari non è giusto per te. È importante capire che non sei sempre responsabile dei sentimenti degli altri e che nessuno dovrebbe cercare di farti sentire in colpa solo per ottenere ciò che vuole. Le relazioni dovrebbero basarsi sulla comprensione reciproca e non sulla manipolazione delle emozioni degli altri. Se il video ti sta piacendo iscriviti al nostro canale per ricevere altri video come questo. 4. L'umorismo malizioso Il quarto segnale è l'amore per l'umorismo malizioso. Gli empatici oscuri dimostrano un alto livello di umorismo malizioso, utilizzando scherzi offensivi che mettono gli altri in una posizione inferiore per sentirsi superiori. Immagina di avere un amico che spesso fa scherzi che ti fanno sentire un po' giù. Potrebbe dire cose divertenti, ma in modo che ti senti un po' imbarazzato o piccolo. Ad esempio, potrebbe ridere di un errore che hai fatto o dire cose che ti fanno sentire diverso dagli altri. Gli empatici oscuri usano spesso questo tipo di umorismo per sentirsi superiori agli altri, come se facessero parte di un club segreto. Ma è importante capire che gli scherzi non dovrebbero mai far sentire le persone tristi o inadeguate. Le buone risate dovrebbero farci sentire bene, non male. Quindi, se hai un amico che fa scherzi che ti fanno sentire giù, è importante dirgli come ti fanno sentire e che non ti piacciono quegli scherzi. Le buone amicizie si basano su rispetto reciproco e su uno spirito positivo, non su scherzi che mettono gli altri in una posizione scomoda o triste. 5. Diffusione di voce Gli empatici oscuri, con il tratto del machiavellismo, godono di ingannare e manipolare gli altri. Possono diffondere voci su ciò che hanno intuito essere le tue insicurezze o vulnerabilità, ferendoti tramite gossip mirati. Immagina di avere un amico che, invece di parlare direttamente con te, inizia a dire cose sulle tue spalle a altre persone. Potrebbe dire cose che sa ti fanno sentire male o che riguardano le cose di cui sei più insicuro. Questo amico potrebbe far circolare voci su di te solo per farti sentire triste o imbarazzato. Gli empatici oscuri, con il loro desiderio di ingannare e manipolare, potrebbero diffondere voci solo per far male agli altri o per ottenere ciò che vogliono. È come se stessero usando parole cattive invece di cercare di risolvere i problemi direttamente. Quando incontri situazioni del genere, è importante parlare con il tuo amico e spiegargli come ti fa sentire. Le vere amicizie si basano sulla comunicazione aperta e sulla comprensione reciproca, non sul diffondere voci che feriscono gli altri. In conclusione In conclusione, riconoscere un empatico oscuro richiede attenzione ai dettagli e una consapevolezza dei tratti oscuri. Se incontri qualcuno che mostra questi segnali, è essenziale proteggerti e cercare supporto. Ti lasciamo altri due video che potrebbero interessarti. Se ti è piaciuto questo video, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Per altri video come questo, clicca sul pulsante iscriviti e non dimenticare di attivare la campana delle notifiche. Ciao e al prossimo video! Ciao e al prossimo video!